Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Guardalo, guardalo qua, guarda che si apre, incredibile, questa è veramente una magia, è una magia questa qua, è un fiore pazzesco questo qua. Guarda, 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 guardalo, guarda, 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 è incredibile, è incredibile, guarda, 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 no, pazzesco, cioè, guarda anche quell'altro, no, vabbè, ragazzi, questi sono dei fiori incredibili, guarda come si aprono. No ragazzi ma è incredibile, è incredibile, è incredibile, guarda che roba, si chiama la bella di notte, di giorno sta chiuso e di notte poi la mattina si richiudono, sono incredibili, dei fiori incredibili, guarda che roba. Pazzesco, è come la lampadina, pazzesco, la natura l'aveva già inventato prima, guarda quello lì, quello a sinistra, ma poco spara, eccolo, eccolo, spara i petani, incredibile, guardalo, guarda, all'improvviso lo fanno, è incredibile. E si stendono, eh, si aprono proprio... Pazzesco ragazzi, pazzesco, pazzesco.